Ci sono ambulanza e auto della polizia vicino all'entrata della metropolitana, è Cinzia! Ma che diavolo... C'è un messaggio sotto la porta? Sebbene il culto stesso sia ormai scomparso, sono certo che il suo spirito permane ancora. Stanno accadendo troppi fatti strani in questi cittadini. Sto indagando due persone, o forse direi una sola. Ho appena scoperto che cosa sta succedendo. 8 aprile. 8 aprile. Ah, mettiamo un po' di roba. Alan... E così... Riesciò a vedere la sostanza. Riesciò a vedere la sostanza. Riesciò a vedere la sostanza. Vediamo cosa c'è in frigorifero Ah, letta al cioccolato Se avessi sete, non si sa mai che Il buco sta diventando più grande, ma cosa? Ah, letta al cioccolato E' questa foresta? Ah, letta al cioccolato Io un giorno non l'ho mai vista Non so neanche dove sia Un lupo? Ma cosa? Ma cosa sono queste cose? Un lupo? Un lupo? Un lupo? Un lupo? Ah, letta al cioccolato Ancora impossibile Un lupo? 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 Hey ma... È questo? Hey, ma tu chi sei? So you came to investigate this stone too There was another guy here before A real nosy guy But I was the one who found stone first In the old days Natives called it They used it in a ceremony For talking with their dead ancestors And now those guys are using it too Call it the mother stone They're just up ahead in that weird building Operating some kind of crazy religious cult They used to collect orphans And things do Kind of gives you the chills This stone What's that? What's that? Oh Dio! Lourdi ma... Lourda! Viena! Lourdi! Viena! 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 No una altra! Vien! Ha! Oh! Viena! Iuh! Sono salvo! Da cosa? Ancora? Ah! 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 Ho questo tesoro, io me ne vado! Ah! Silent is my super society! Wish house! Questo lo farò trofi del... Justi dal culto, eh? Ah! Put crevo! Phi? Ah! Chi?